cq cq qui falco a tutti qui falco a tutti non dice allora parcheggio visiva piazza marconi a crema e praticamente che ha messo giù i parchimetri nuovi da parlassero giurna la rai che ciamassero la nasa zinchi se cia patighe davanti al parchimetro perché caccia te te rile praticamente la tu lo guardi davanti al versi me a al cockpit che sarebbe al criscotto del scatto e te te rilevete dice figa che cazzo dove fa che no niente rile chi anche un po da tempo nasce a ridere da me questo studia me il parchimetro cura mia cazzo un ingegnere nucleare no allora niente se che la fessi qui la per me dite le carte no a water vermi bel portafoglio tira fuori al banco ma tra un filo sedete sente il da lui che fa al vuso non lo faccia le sbagliatezza la carta non è ancora attivo cazzo se agire praticamente che visti cola la pettorina gialla fosforescente antinebbia come quanta bis e con scritto che l'ausiliario e me fa non lo fa non lo faccia non è ancora attivo a tira fuori al banco e fa scusi che ho detto allora c'è e no no ma solo con le monete non si può dervere dal borsotto cia per la mia branca di monida perché c'è chi lei che va a mangiare con sedes del sette euro da monida meglio il borsotto mia per me li pade per me vedete la monida se no nel portafoglio c'è oltre a mettere una sacoccia chi li da una oltre che te fa come dobale il se sta mia bene nel borsotto metto la monida niente metto la monida che pensa in caso che scrive le s che scrive schiacciare il pulsante giallo oa schiaccio il pulsante giallo e lui mi fa no inizio dal verde a me ci guarda i coglioni che fa mi scusi e che che scrive schiacciare il giallo no lei parte dal verde e che fa ma scusa lei non sangui no lei è come il triage che arriva dal verde che ti dice che cazzo devo pagare ma so mia ha impiegato la targa e mi fa la ma fa la targa la sa a me che fa a parte che se al portafoglio fu un essere umano al gas creare la cia ma con la macchina parcheggiare davanti o i d'un bigol oltre che veste lasciare il verde che la cazzo se me la fa cazzo vado subito a fare la fotografia perché non me la ricordo me dice che bagai per parcheggiare le tira le tira bagai sti bene attenti se vieni fa parcheggiare in crema k